Ricordate, non lo facciamo per la violenza, ma per la vittoria che ne consegue. Il vostro sacrificio non cambierà nulla! Mettiamo fine a questo trambusto il prima possibile. Questa caccia sta durando decisamente troppo. Mission accomplished. È già finita! Perché questo compiacimento? Quegli idioti ci hanno fatto sprecare tempo che avremmo potuto usare meglio altrove. Ricordate, non lo facciamo per la violenza, ma per la vittoria che ne consegue. Non lo facciamo per la violenza, ma per la violenza che non lo facciamo per la violenza. Ricordate, non lo facciamo per la violenza che non lo facciamo per la violenza. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti.